A scuola, già da un po' di anni a questa parte, si insegnano le varie forme del linguaggio scritto. Si fanno simulazioni sulla scrittura di articoli giornalistici o di racconti di fiction, eccetera. Ma tutto ciò non avviene con l'immagine. L'immagine è relegata a una funzione passiva, non la si scompone. Non mi piace dentro mettermi in cose che non mi riguardano. A parte questo, non ho ben capito. Ha capito, professore. Più ricchi sono e più fanno schifo. Volgari. Volgari dentro, sai cosa vuol dire? La cosa principale è introdurre una idea di lettura dell'immagine che serva a dare ai ragazzi lo spirito critico che hanno invece acquisito sulla forma scritta della lingua. Amici, amici, vi parla il generale della rovere. Calma, dignità, contemple. Siate uomini. Dimostrate a queste carattiche che non tenete la morte. Sono loro che devono fermare. Ognuna di queste bombe che cade avvicina alla loro fine. Se i ragazzi acquistano consapevolezza di come si crea un'immagine e su come si fa diventare un'immagine veicolo di un racconto, si arriva a capire come gran parte delle immagini che si subiscono sui social network sono in realtà costruite, hanno una parvenza appunto di verità che il solo fatto di pensare che per riprendere una scena bisogna sapere che quella scena avverrà, ecco che in quel momento stesso si smonta questa idea di verità attribuita all'immagine fatta col telefonino. I ragazzi continuano ad avere un'idea di una immagine che è sempre veritiera che non è vero, lo sappiamo bene noi che ci lavoriamo con l'immagine come anche la più onesta delle interpretazioni di una storia attraverso l'immagine pur sempre una manipolazione. Allora far entrare questo concetto nella scuola, ripeto, così come si fa con la letteratura, è fondamentale.